inizia ora il talk che giura solennemente di non parlare di conflitto di interessi io sono Eugenio Manprin e qui con me c'è un uomo entusiasta di stare streammando alle 9 di sera lui è Ricky Uesa bella, sono contento di essere introdotto sul mio stesso canale come vedete già ho visto moltissima ironia sul fatto che sarei mi piace molto come hai messo la chat a schermo la vediamo adesso per la prima volta è vero non abbiamo potuto fare nessuna prova bella puffet per complimenti, grazie mille di car comunque ho il titolo sbagliato a schermo, questo è un disastro spoiler bello ti ero azios, intanto rispondo a Dario che diceva sì l'ho creato io il titolo mi piace un po' di fare il limbo sotto l'asticella a proposito benvenuti nella qualità benvenuti nella qualità bene, questo mi piace molto di più, questa live di notte profonda e notturna e marzulliana come qualcuno in chat ha già avuto modo di sottolineare comunque streamlabs è molto mentiroso sulle prospettive della propria chat perché il box partiva dall'inizio dello schermo ma qua vabbè adesso sì 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 cioè il box della chat è ma soprattutto scusami Odradec, Napolitano, Cess e Riccardo non si è aggiornato con i nuovi amoreni Riccardo e Pieragius non sono apparsi io non so quanti secoli fa da quando risalgono Odradec, Napolitano, Cess e Riccardo 23 dai spiega la ragione di questi problemi tecnici la ragione di questi problemi tecnici è che questa live di Wazeatwitch mentre io mi trovo a Bologna è trasmessa dalla città di Padova mentre sto gatto di merda deve saltare proprio adesso e quindi insomma siamo in trasferta anche se io sono ancora a Bologna abbiamo deciso abbiamo deciso di fare questa live per una questione di mia non vorrei dire pigrizia questo è il non plus ultra della tua pigrizia questo è l'arrivo del tuo vorrei sottolineare che ora le scritte sulla chat sono parzialmente stiamo, stiamo, ci stiamo lavorando ma ripiccioliscila un pochino non ho io le mani sulla scena di strip e vabbè mettiamo la chat a schermo come nell'ultima puntata della Ram Veterana di Sabaku solo per voi per voi siete voi ok queste sono citazioni che io non arrivo e Bella Fenrir grazie mille del Prime comunque vabbè il riquadro dei sub è inutile è quello sbagliato lo tolgo e quello lo puoi levare perché non si aggiorna e cita tre sub che io non ringrazio e non sono tuoi ringrazio a distanza di tempo ma non me li ricordo Odradek no Odradek deve essere stato relativamente recente Vetz ma metti la chat un po' anche verso di te quanto tempo fa ho tolto quel riquadro quanti secondi fa l'ho tolto te lo dico ma tra l'altro non si sta ah no si sta aggiorando si sta aggiorando e quindi niente siamo qui riuniti per fare un talk a due voi naturalmente seguite tutti lo spareggio su YouTube tutti quanti tutti quanti so benissimo essere il pallino dei follower di Wesatwitch lo spareggio grandissimi appassionati di sport americani soprattutto e un armocromista fa sempre fa sempre comodo e quindi abbiamo deciso di fare un talk per ovviare all'orario notturno che mi vede in grandissima difficoltà anche perché c'è un problema c'è un problema c'è un problema di fuso orario nel senso che ieri c'era l'ora legale due giorni fa c'era l'ora legale e io non mi sono ancora ripreso per me sono le 10 e 08 22 e 08 bene questi commenti denotano un'età un'età certa e cosa faccio bella datolo bella datolo io dovrei sempre ringraziare gli abbonati per l'etichetta io non vedo niente io non vedo nulla io qua c'ho la mia ah ma vedo anch'io vedo anch'io che datolo è a 45 mesi lo vedo anch'io adesso so tra l'altro grazie mille datolo 45 mesi 24 mesi o 45 mesi sono quasi 4 anni ciò datolo sciapo sciapo datolo io forse è il caso di farsi qualche domanda allora noi abbiamo in realtà preparato adesso io non vorrei essere a parte che come sempre siamo aperti qui come sempre qui su Wesa Twitch non tanto nello spareggio ma qui su Wesa Twitch siamo aperti ai suggerimenti della chat molto aperti se la chat sa che sono successe cose calde succose di quelle un po' che avete capito c'è stato del sangue o qualche altro liquido bella mela cotugno grazie mille siamo stiamo pronti a discuterne però in realtà abbiamo preparato delle tematiche oppure se volete se volete che insieme parliamo male di Ricky cioè ci sono delle questioni che lui in chat ti ignora io non le ignoro cioè se volete quelle cose quei temi che gli rodono un po' Zero Calcare che l'aveva battezzato fuori è stato giustamente subito in posto Zero Calcare in panchina per il momento per i nostri anche fumetti brutti anche fumetti brutti ha disertato ah non la sapevo sta cosa ma in realtà senti Evgeni anzi Eugene non vorrei sembrare l'unico segmento che non ho scritto lo devo scrivere non ti preoccupare va bene benvenuti nella qualità va benissimo ma vuoi parlare ora? mi hanno imbeccato ok vai cioè nel senso volevo dire queste tu cosa ne pensi Eugenio voglio che sia tu ad esporre naturalmente ricordandoti tutte le avvertenze che ti ho detto cose che non devi dire cosa è e praticamente non puoi rispondere alla mia domanda ma te la faccio senso ma tu cosa ne pensi ma tu Ricky sai che l'unica avvertenza di cui ho bisogno è che io a differenza tua una reputazione ce l'ho e è questo guarda che questo qui hai appena evidenziato un grave problema un grave problema e mi hai fatto un bellissimo complimento magari magari fossi davvero riuscito a liberare della reputazione però averne una è un palo è un bastone tra le ruote un po' non ho nessuna reputazione ma forse non ho ancora l'età in cui me ne frego completamente e quindi e tu conosci appunto qual è il mio target di interesse sentimentale quindi io su zero calcare la fregna ma la fregna parliamo dopo su zero calcare che boicotta Luca cosa posso dire se non l'opinione più media che ci sia fa quello che vuole una persona libera cosa devo dire su zero calcare che boicotta Luca ma tu hai visto hai visto strappare lungo i bordi io ho visto la prima stagione di strappare lungo i bordi e ho droppato è una stagione no sono due la seconda l'ho droppata a metà della prima puntata ma ho fatto un ruore però la prima l'hai vista non mi ha fatto troppo impattire la seconda metà ho capito perché l'ha fatta e ci sta ha una sua storia personale molto profonda però si capiva la quarta puntata e il finale della sesta sì e la prima parte mi ha fatto un po' così gli animaletti come Boja Corsman però è un po' meno bello di Boja Corsman ma questa è un'opinione molto poco popolare però io faccio subito ma di quel cazzo che ti pare una brutta una brutta figura collacciata una brutta figura boh ma c'è Zero Calcare mi sta simpatico ma non l'ho mai letto mai detto che ha scritto delle belle robe non l'ho mai letto no me l'ha no 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 non te l'hai detto io ce l'ha detto Alex credo Alex che salutiamo bella Alex che fai l'opinione brutta in questo vieni nominato vieni nominato come ogni volta ogni volta che ci viene una stronzata è veramente brutta e sospettiamo che l'abbia detta qualcuno di noi due ma non voglia l'ha detta Alex l'ha detta Alex ok però è simpatico Zero Calcare dai non lo so non lo so comunque siccome sono stato caricato dalla mia parasocialità bella Mercurio grazie mille anche a te e Eugenio snocciolaci una top 100 videogiochi al mondo sono 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 un po' sono un po' cavolo devo farvi un po' di nuovo la come si dice devo riprendere confidenza con i nomi perché potevo darvi delle grandi risposte ma mi vengono in mente solo i vari souls like e quindi e quindi cosa posso dire posso dire che i boss i boss più belli ragazzi sono tutti sono quasi tutti in Dark Souls 3 però Bloodborne è il gioco definitivo di Detaka Miyazaki però però l'anima è in Dark Souls 1 e i boss più belli sono in Dark Souls 3 anche se anche se forse anche se forse forse l'apice l'obiettivo è Sekiro ma Sekiro ti tiene fuori a causa a causa di un certo attrito che è dato dall'erba alta quasi adesso se volete droppare wufu wufu ve li scelgo tutti grazie Botanica vedi se fossero argomenti se ci fossero ancora i bar come una volta potresti tranquillamente fare conversazione al bar ma vogliamo parlare vogliamo parlare dell'architettura di Dark Souls 1 scusami ne vogliamo parlare ma la città infame non è o non è un'opera d'arte dell'architettura spero siate cosci che quest'uomo parla di cose che non conosce mai giocato un secondo a Dark Souls potresti già scrivere la recensione su qualche sito te lo assicuro non l'ho mai giocato a Dark Souls però nel mio cuore è come se quelle scale le avessi cercate tutte quelle scale della città infame ascoltami stavamo parlando avevo scritto zero calcare boicotta Lucca ma hai fatto disinformazione se ora passasse un bambino se ora perché tu e oggi tu l'hai capito che il il mestiere dell'influencer è educare non è soltanto educare se tu passi tutto il tuo tempo e tutta la tua vita con il peso morale dei bambini degli altri cioè tu hai costantemente davanti un ipotetico bimbo Michele la cui educazione dipende da te e tu hai fatto della disinformazione perché zero calcare non boicotta Lucca la città di Lucca ma boicotta il Lucca Comics che comunque secondo me anche sulla città di Lucca in senso lato non so quanto zero calcare tra l'altro leggevo che vendono vendevano i biglietti cioè che sono gratis i biglietti per fare in firma copie Berto User se devo scegliere Tarantino Tarantino comunque Botanica non mi ricordo se ti ho ringraziato e praticamente ci sono queste firma copie a Lucca Comics per cui la gente fa delle file assurde si vengono dei biglietti ma sì ci sono più biglietti diversi a Lucca Comics e sono gratis questi biglietti ma sono i bagnarini che li vendono a una marea di euro una roba assurda a Pelati sicuramente lo saprà molto bene io ne ho fatto solo uno ma tu sei mai stato a Lucca Comics una marea di volte 6-7 volte no 5-6 volte realisticamente sei mai stato come ospite a Lucca Comics non sono mai stato come ospite fossi stato un po' meno spocchioso forse ti avrebbero invitato per piacere eri qui per farmi complimenti che cosa volevo dire zero calcare boicotta cosa ne penso beh è un uomo libero fa quel cazzo se parliamo seriamente degli argomenti tutti si possono chiudere così ma quanto cazzo la risposta a qualunque cosa tra l'altro è una bellissima risposta a qualunque cosa uno dice la risposta a qualunque cosa fa schifo è una bellissima risposta ma è quel cazzo che ti fai cioè io voglio dire questo se zero calcare non va a Lucca Comics io ha danneggiato me la mia libertà qui però qui però è come se parlassi da solo no allora allora lo chiedo a te Eugenio hai ragione in effetti è una strana domanda da porti il fatto che zero calcare non va da Lucca Comics ha danneggiato te e la tua libertà ma è comunque comunque la risposta è la stessa ovviamente no ovviamente no un saluto a John Stuart Mill un saluto sempre abbonato storico se la gioca con da recentemente sono stato grazie Donato recentemente siccome Padova regala un ambiente un ambiente leggi leggi cosa ah no non lo puoi leggere Donato scrive visto che con lo spareggio vi ispirate a programmi come NBA o ESPN programmate ad avere in futuro una molly al centro purtroppo no perché come voi sapete non esistono donne su internet e quindi è vero cioè nel momento in cui fa parte la diretta sparirebbe sparisce no sentite voglio dire una cosa su questa cosa di zero calcare e la prima cosa che avevo detto era non parliamo di zero calcare che dire di questa di questa decisione secondo me ha fatto bene e secondo me ha fatto bene perché per il suo scopo che è mettere in luce un aspetto non messo in luce a sufficienza in questo modo pone un riflettore sul sul massacro dei civili che sta venendo portato avanti ovviamente in quella regione è chiaro che ovviamente ora gli daranno dell'antisemita amico di Hamas eccetera eccetera io non ho idea di quali siano non credo sia un antisemita però non ho la più pala idea di quali siano le posizioni di zero calcare su Hamas nemmeno io però però spero negative vogliamo supporre gli diamo facciamo un principio di carità e supponiamo il bene e supponiamo il bene ecco però credo che sia sia una situazione molto sbilanciata a livello di comunicazione pubblica in cui si rischia di come posso dire di di dare un supporto cieco a una condotta che dimentica di qualunque di qualunque principio di proporzionalità sta approfittando di una mostruosità orripilante quella di Hamas che ha fatto ovviamente è tutto reazione di qualcosa ma non stiamo a risalire al big bang comunque di quella regione per di fatto quello che non voglio essere troppo troppo pesante con i termini ma dovevamo essere poco politici bella godeletti però insomma diciamo che sono due fazioni due parti che ambiscono all'estinzione dell'una dell'altra e quindi non lo so non 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 vorrei seguire nessuna idealizzazione di nessuna delle due non vorrei seguire una tipica idealizzazione di sinistra che si fa del si cerca di dimenticare le colpe i crimini di una parte per via dello sbilanciamento delle forze in campo ovviamente israele è la parte più potente da un punto di vista militare eccetera ma non vorrei neanche fare questo discorso molto superficiale che si fa di solito per cui israele è occidente quindi noi siamo israele olocausto eccetera calma calma bisogna andare a circostanziare è molto complicato ma una cosa che ricordandovi il libro che già vi consigliavo quello di Brizzi su 30 dopo Cristo la conquista di Gerusalemme molto bello un libro di storia bellissimo su Roma e quell'area geografica io quando sento dire che israele è occidente per alcune cose ma è una grande sciocchezza però andatevi veramente un pochino ad approfondire si potrebbe dire la storia dei fondamentalismi e qual è come si dice l'OG fondamentalismo l'original gangster fondamentalismo chi è che se l'ha inventato e da cui altri hanno tratto quindi starei molto molto tranquillo capisco quello che vuole fare il discorso di Zero Calcare lo capisco perché lui è molto visibile è molto amato Netflix tutti guardano Zero Calcare tutti lo citano tutti è una cosa facilona che piace a tutti anche simpatico è bravo per carità anche se io non lo conosco abbastanza ed è interessante che lui utilizzi una posizione molto fortunata in questo momento che lui aveva perché forse non ce l'ha più dopo che ha detto questa cosa una posizione molto fortunata per dire qualcosa che difficilmente riuscire a cui difficilmente riusciresti a dare visibilità poi ci sarà ovviamente un bimbo Michele che aveva la copia da far firmare e rosicherà tantissimo e per colpa di questo episodio passerà all'uso di eroina e morirà pieno di verdoso cheat abbiamo citato le storie tese dopo 22 minuti dopo 22 minuti abbiamo anche detto abbiamo anche detto che il dogma non ci piace esatto vorrei parlare di conflitto di interesse ma questo questo era così un intro un po' un po' pesantona comunque per alleggerire ci chiedono cosa pensiamo dell'uso del romano in zero calcare boh a me sta simpatica cosa deve fare lui parla così l'ha un po' forzato a me sta simpatica ma io a me gli accenti stanno simpatici io non troppo dai diciamo qualcosa sull'uso del romano in zero calcare qual è il problema no problema nessuno nessuno ma sai qual è il problema del romanesco che è diventato sinonimo di questa svogliatezza cazzara cioè alla fine il romano che sei molto almeno io quello che ho visto di strappare lunghi bordi c'è questa svogliatezza cazzara cioè io se fossi di Roma non lo so non è un po' un po' una palla sempre sta cosa cioè che il romanesco corrisponde a voglia di fare un cazzo e stare sempre sciallati e sti gazzi e staniti cos'è mi dicono Dogville è un capolavoro io ho appena visto che è un film di Lars von Trier che a orecchio non ti piace perché sicuramente Lars von Trier se la tirerà in qualche modo no per carità c'hai i bronzoli perché non ti piace Lars von Trier non ho voglia di parlare di Lars von Trier se no non finiamo più dai veramente il napoletano spezzo una lancia perché qua so che queste sono persone che pensano di cogliermi in castagna il napoletano pensano bene in realtà è bellissimo non lo dico minimamente per scherzare il napoletano è una lingua meravigliosa e uno dei miei artisti ho anche amici napoletani uno dei miei artisti napoletani preferiti e uno dei miei artisti preferiti è Pino Daniele che tra l'altro l'altro giorno mi stavo riascoltando e adoro quindi e Giorgio Napolitano scriveva poesie in napoletano molto difficili da capire ma tutto quello che dovevo dire sul napoletano l'ho detto questa è la tua versione dell'elogio alla napoletanità e poi è la lingua dello schwa grazie mille o dello schwa l'ars von Trier lo cita di brutto biumciulane come user Berto questa è una domanda dallo spareggio questa è user tu fai questo commento qui sotto un video dello spareggio e magari magari potrai potrà essere un segmento si legge squa l'abbiamo l'abbiamo esaurito zero calcare sì dai zero calcare se siamo capiti possiamo possiamo parlare di roba seria adesso parliamo di roba seria ovviamente parliamo di stronzate la cosa da dire che però voglio dire Eugenio ma sei su Wesa Twitch ti rendi conto del fatto che è un discorso non finisce mai la cosa che la cosa che volevo dire che ci tengo è che magari ora parleremo di cose più faccete perché è così la cosa che ci tengo a dire è che sì è un il mondo è in una situazione complicata venti di guerra aspirano in Est Europa venti di guerra aspirano in Medio Oriente non si sa mai cosa può succedere nel Pacifico e parlare di stronzate fa un po' strano perché apri il giornale come nella canzone di Celentano e se siamo capiti però sentite a un certo punto quali sono le nostre leve sul mondo Eugenio? non lo so educare i bambini l'hai detto come se io dovessi avere una cosa brillantissima da dire stavo pensando alla mia libreria di Bojater non è uscito ma io lo so se hai capito cioè il pensiero dei bambini deve essere ma deve essere tipo il tuo ossigeno tu devi respirare i bambini ma io ci penso in continuazione ai bambini facendo anche psicologia dello sviluppo che è una bellissima materia è una bella materia però la professoressa è quella di cui ti parlavo con delle passioni dinamiche vabbè non posso spoilerare non posso spoilerare non spoilerare bene dai 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 facciamo un segmento facciamo un segmento bellissimo penso che passiamo alla qua ok il titolo l'ha scelto Ricky di questo segmento ci tengo ci tengo a dirlo ci tengo a dirlo ma che cazzo ridi cosa ridi cosa ridi cosa ridi volevamo parlare di questa cosa perché forse non è un argomento ancora caldissimo speriamo che sia ancora tiepido e e allora si è parlato si è parlato di Friends e tu Ricky ne volevi parlare in merito a un'altra notizia che poi sarà quella che arriverà ma è arrivata è arrivata una notizia invece molto più tragica però io non lo posso dire mentre tu ridi ci siamo ci siamo tutto il mio target ama Friends tu lo mi puoi far fare queste figure ma ti ho detto che odio Friends Friends ci sono shoot allora ci ha lasciati Matthew Perry attore che interpretava Chandler nonché unico dei sei attori di Friends che scriveva anche alcune delle battute se non lo sapete adesso lo sapete sì perché una originale mente comica e e noi di questo non diremo niente però parleremo di Friends giusto? sì adesso fai sta gag no adesso al di là delle gag al di là delle gag Friends è arrivato da noi nel 97 ma è una trasmissione del 94 e io ricordo e lo davano se non ricordo male su Rai 2 io mi ricordo leggevo Rai 3 prima Rai 2 dopo mi ricordo Rai 2 quindi forse l'ho iniziato al 98 mi ricordo che lo davano su Rai 2 la sera io non ho mai non ho mai avuto modo di capire il il continuum di Friends mi auguravo molto episodico delle sere chiaramente erano gli anni dell'adolescenza quindi il pensiero fisso era un altro quindi non si era sempre in casa a guardare Friends magari la sera però era la sera prima di cena una cosa del genere o dopo cena insomma non mi ricordo però comunque tantissimo l'ho visto tante puntate tante cose e mi ricordo che Chandler Chandler Bing era il mio personaggio preferito anche 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 il mio ma è la risposta è la risposta giusta però è vero cioè Chandler era il motivo per cui guardavo Friends sinceramente è la risposta giusta mi faceva ridere era era molto molto era molto carino molto simpatico e poi ovviamente Monica per me era una divinità perché noi scusa abbiamo deciso di terra fuori Friends e abbiamo parlato di questa cosa parliamo dell'estetica dei personaggi femmini di Friends aspetta volevo dire delle cose edificanti prima di dire quella era più gnocca che tanto comunque era ovviamente la giovane prime carne cox sì però è un discorso complicato va bene aspetta però volevo dire una cosa carina lo show era molto divertente e Chandler era secondo me il personaggio migliore anche se anche Joy da noi triviani ma in realtà era tribbiani tribbiani le persone giovani l'hanno già conosciuto come tribbiani perché si vede che ci siamo persi il primo doppio era proprio una serie anni 90 cioè se io penso agli anni 90 penso molto a Friends cioè mi rappresenta veramente quel il mondo va tutto bene superata la divisione in due in due blocchi del mondo tutto è America tutto è Manhattan tutto è flirt sorrisi divertimento disimpegnato musica è così una sorta di New York di Woody Allen senza i problemi ma solo con 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 le coppie e con battute un po' meno divertenti e con battute meno divertenti però dai le battutine di Chandler ogni tanto erano carini sì e si vede nelle prime stagioni si vedono anche le torri gemelli nella sigla strato sigla famosissima anche Willy principe di Belair certamente sì anche X-Files bene 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 vedo che c'è della vecchiaggine anche in chat e quindi guarda che Chelios Chelios dà l'opinione giusta stavo cercando di ignorare quel messaggio io io consiglio a Wesa di vedere Seinfeld da anni ma non è Seinfeld Seinfeld è uguale Seinfeld ma io ho visto le prime puntate che è stato il modello ma non posso più non posso più che è stato non è più l'epoca cioè io ho visto le prime due tre puntate non ce la faccio più a vedere quella roba ma non che sia male ma è un altro mondo è la serie sul nulla esattamente però era da vedere all'epoca era da vedere all'epoca grande influenza di Friends famosissima negli Stati Uniti in Italia però non la conosce nessuno sai anche era di bello e comunque dai per te per te lo seguivi io l'ho visto tutto Friends più volte ma lo seguivo sia in tv quando ero piccolino che piaceva molto a mia madre e poi me lo sono recuperato in streaming un paio di volte ogni volta che poi ho smesso di guardarlo perché ogni volta che lo vedi ti rendi conto dei difetti carino simpatico bello mi ricordo mi sembra che alla fine Chandler e Monica si mettono insieme ma sì allora però non sei sul pezzo è la scena la scena della della proposta di spoiler di Chandler a Monica e poi Monica a Chandler è una delle delle scene più belle è quasi commovente c'è Monica che si mette in ginocchio è bellissimo è una scena è una scena commovente è solo Babma io mi ricordo visto che si citava io sono molto più da How I Met Your Mother nel senso che How I Met Your Mother invece me la sono vista tutta in inglese ovviamente perché in italiano è una cosa inguardabile e How I Met Your Mother mi è piaciuta e sì effettivamente fa molto Friends donato no io non sono sicuro però è carino e ma How I Met Your Mother è How I Met Your Mother pur si dica copiato da Friends che secondo me è una critica che non ha senso perché Friends ha copiato completamente tutto quello che c'era prima How I Met Your Mother raggiunge qualcosa in più a livello di trama che Friends non ha sì dai ma sono passati un po' di anni da quando ho visto La Met Your Mother a me non è dispiaciuta e mi è piaciuto pure il finale che tutti hanno odiato ok quindi possiamo possiamo parlare di cose serie su Friends tu hai fatto un'osservazione interessante cioè da Friends è arrivata alla ribalta Jennifer Aniston ma ma esteticamente esteticamente abbiamo tante cose da dire io sono io sono d'accordo con te però lo direi un po' lo direi diversamente cioè il Prime Kornicox ha degli alti più alti è che Jennifer Aniston si vede anche durante le stagioni durante le puntate ha reso Jennifer Aniston è costantemente molto bella e poi vabbè è invecchiata benissimo lo sappiamo tutti non l'ho mai preso Jennifer Aniston ma sai che la mia generazione adora Jennifer Aniston nemmeno io l'ho mai capito così tanto grazie anche Reruru non mi ricordo Godeletti se ti ho ringraziato sai cosa ti devo dire che tu non ci crederai ma c'è un link tra Kornicox e lo spareggio vediamo se lo becchi ma starà con qualche atleta ma non lo so Kornicox era l'attrice protagonico protagonista con Jim Carrey del primo Ace Ventura che io non ho visto sei un pazzo eh lo so perché tu sai c'è la scena poi c'è la scena del rinoceronte no quello è il secondo nel primo Ace Ventura adesso ti stringo con gli indizi il primo Ace Ventura è buona sostanza ambientato a Miami e sai chi c'era nel primo Ace Ventura non leggere la chat che sicuramente l'avranno scritto sai chi c'era nel primo Ace Ventura dimmi un grande dimmi un grande nome dello sport di Miami qual è il primo mi viene in mente Lebron James no 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 siamo negli anni 90 primissimi anni 90 Dan Marino yes vecchio vecchio Karnicox c'era Dan Marino e tra l'altro tipo che lei in realtà è un uomo e era era rapiva Dan Marino Dan Marino è presentissimo ed è uno dei motivi per cui molti hanno simpatia per Dan Marino e che in realtà è stato famoso al cinema e io per primo l'unico unico personaggio dello sport americano football americano che io conoscevo prima di seguire il football americano era Dan Marino perché era in Ace Ventura ed è Marino un mito comunque tutto questo per dire Karnicox Jennifer Aniston Franz il povero Matthew Perry che ha avuto una vita molto difficile con le dipendenze tutti abbiamo letto gli articoli ma già si sapeva purtroppo e OJ grazie Mozaccio ma quello che dice Mozaccio è molto bello e giusto c'era OJ Simpson ma io conoscevo OJ Simpson come tutti perché era un attore famoso la pallotola spuntata eccetera grandissimo personaggio le cose sono andate molto male era un personaggio molto famoso però io non sapevo che OJ Simpson fosse stato tu lo conoscevi solo come personaggio The Juice capito invece sapevo perché era il film parlare del football americano c'era il delfino dei Miami Dolphins c'erano tutte queste stronzate qua e sapevo benissimo che Dan Marino era un giocatore di football credo che Ace Ventura parlasse con il delfino dei Miami Dolphins che all'epoca c'era veramente un delfino tipo una roba allucinata incredibile e tutto questo per dire Matthew Perry che ci ricorda nel tuo caso l'infanzia nel mio caso l'adolescenza e bella Maxos grazie mille del Pride lo so che vuoi dire altro altro no volevo dire che c'è una cosa interessante che è successa ora non ho la notizia ma si può trovare facilmente che riguarda invece la tua Jennifer Aniston Jennifer Aniston mia nostra nostra mia è della chat tu è della chat Jennifer Aniston che è un po' una fidanzata d'America come tutti sappiamo perché lei ha questa estetica da brava da brava ragazza bella bella anche Curisu ma chiso Jennifer Aniston ha sempre avuto questa estetica da brava ragazza ma molto lei lei ricorda un pochino come target per me Sex and the City perché lei è ragazza non bellissima inaccessibile ma comunque molto curata grande attenzione all'aspetto estetico New York ma non troppo di livelli improponibili ok quindi lei è sempre molto piaciuta alle donne proprio perché è sempre stata e lei di fatto Jennifer Aniston è stata una fashion influencer antelitteram e quindi a questo i tagli di capelli iconici è stata un'icona di stile ma non un'icona di stile Naomi Campbell ok un'icona di stile per la ragazza normale o quasi la borghesia la borghesia la borghesia che non c'è più e bla 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 la cosa interessante di di Jennifer Aniston che tutti sappiamo è stata fidanzata o sposata te lo dico subito bello è stata comunque avuto un rapporto importante con Brad Pitt noto attore di Hollywood sposata ci dice la chat la cosa interessante notizia di che ho avuto modo di leggere sul Corriere della Sera poi sul Messaggero in questi giorni come mai sei passato al Corriere della Sera al Messaggero perché c'era il paywall e tu me lo hai aggirato la cosa interessante e c'è anche un cameo su Friends che tra l'altro Friends è una marea di cameo tra l'altro una figata una figata pazzesca salutiamo ovviamente Brad Pitt che ci segue sempre assieme a Taylor Swift e Travis Kelsey la cosa interessante che è stata una coppia famosissima sposati cinque anni comunque sposati cinque anni la cosa interessante e adesso voglio anche sapere il parere di un quasi sessuologo la cosa interessante è questa che sono state questa grande coppia ma notoriamente lui apprancò l'allora divina aiutami non so niente dai ma porca misera è Tom Ryder la figlia di Angelina Jolie Angelina Jolie lui apprancò l'allora divina Angelina Jolie penso ci fosse ci sia pensavo fosse passato del tempo tra le due io credo che in realtà le cose siano un filo sovrapposte verso la fine però non sono esperto in ogni caso finì questa storia della della perché perché era figa mister e mrs smith ma ok galeotto certo certo ma volevo sapere no prima di farti andare avanti ha fatto bene a mollare questo è interessante perché cosa successe a livello di comunicazione pubblica eh cosa successe eh perché sono due look ben diversi eh ma è questo il punto eh sì tu avevi la fashion influencer antelitram curata ma accessibile attrice di friends quindi grande identificazione eccetera eccetera per la donna americana eccetera quindi la Jennifer Aniston carina che arriva a un certo punto con la sua carineria ma con la cura e la simpatia magari arriva ok stava con il figo dei fighi perché Brad Pitt è stato per molti anni ma per certi versi è ancora considerato il figo dei fighi ok quindi l'uomo con gli addominali scolpiti di Thelma e Louise eccetera eccetera il super sex symbol e quindi l'America ma è tutto l'occidente no quindi non so se anche Israele l'America sì l'America al femminile si immaginava che con i giusti acquisti con la giusta attenzione al look e anche con comunque una simpatia una una certa un certo modo di fare capito era bello era una bella storia perché lei arrivava fino a un certo punto lui era il divino no si potesse accedere a Brad Pitt e invece e invece cosa succede Brad Pitt si rompe il cazzo e si mette con la Brad Pitt cioè la divina inarrivabile bellissima all'epoca ma è stata esattamente il mio genere comunque riconosco essere bellissima Angelina e questa questa cosa qui questa cosa qui fu un trauma per tutti perché la coppia rimpianta un trauma ma tutto questo preambolo è per arrivare a questa cosa che è appena accaduta che è secondo me è morbo cioè è strana io non voglio non voglio che Brad Pitt mi querelli però è strana stiamo attenti a utilizzare le parole sappiamo che Brad Pitt ci serve a patologizzare e non patologizziamo Brad Pitt che comunque è ancora molto più grosso di me e lo rimarrà probabilmente per sempre cosa è successo? Brad Pitt l'altro giorno così mentre bolle il riso ha regalato ha ricomprato la villa da 76 milioni sai ste robe enormi in cui ha vissuto 74 74 in cui ha vissuto con Jennifer Aniston la ricomprata pensa quanto il pensiero che va veramente in Rosic rimestare nel torbido ricompra la casa dove ha vissuto con lei aggiungo una mia speculazione personale sicuramente l'ha fatta riagghindare com'era è solo una mia ipotesi e la regala a Jennifer Aniston intanto fammi il profilo psicologico di quest'uomo intanto sicuramente si è scopato metà delle donne piacenti che ha incontrato nella sua vita anzi no di quelle che ha incontrato il 100% il 100% intanto devo dire niente affatto creepy devo dire prima di tutto flexino perché insomma ognuno ognuno ha i propri oddio ognuno in tanti possono avere i propri gesti inquietanti e un po' creepy nella vita ma non i gesti creepy di tutti sono regalare una villa da 74 milioni e quindi questo è un po' la cosa che lo salva capito perché perché andare sotto casa di quella con cui la storia è finita 15 anni prima e cantarle qualcosa da ubriaco sei solo creepy è così capito capito così è è cosa posso dire che la prima cosa che mi viene in mente è quello che come tu hai detto quanto deve andare a rimestare ma chissà cosa pensava lui quando ha attraversato quei luoghi poi per la seconda volta ma deve essere allusinante perché probabilmente è lì che tutto questa mega sai comunque Angelina Jolie mille figli adottati sbattimenti Lunicef le rotture di quello e avrà pensato i bei tempi più semplici i tempi semplici di Friends di quando potevamo sorridere con Chandler farci due gag con Joy e in fondo accontentarci ma con il sorriso di Rachel però non lo so ma sappiamo altro di questa cosa cioè lei come ha reagito al regalo come funziona ma sei tu lo psicologo cioè io voglio dire un recato tu devi tappare io sono studente tu devi tappare i buchi sei già scienziato sono già io sono laureato in scienze tecniche psicologiche quindi non sono ancora due volte scienziato come te ma sono una volta comunque hai la scienza infusa ho la scienza e tu ti devi ricostruire tu devi ipotizzare la reazione di Jennifer Aniston e dirmi come può reagire una persona o una cosa del genere non lo so com'è la cosa forse se ne parla in the way make your mother il principio per cui qualsiasi gesto romantico è un gesto in realtà super inquietante se non sei un figo e invece se piaci la stessa cosa se piaci merda è troppo vero è una cosa figa è la stessa identica cosa vuoi andare sotto casa a regalare un mazzo di rosa adesso sei strano a prescindere secondo me perché noi giovani siamo diversi però se sei abbastanza figo sei un figo mandi la lettera bombardi le trasse sei quello che piace sei un figo se sei bruttino e sfigatino sei inquietante ora Jennifer Aniston non vede Brad Pitt come lo vediamo noi perché lei lei c'è stata sposata cinque anni e quindi lei ha visto anche il brutto l'ha visto ma lei avrà sofferto avrà sofferto di quella cosa la mattina presto eh sì cazzo sfatto ma avrà sofferto lei sicuramente ha avuto un lungo processo per ripigliarsi e lui va a rimestare nel torbido sapendo di comunque risvegliare antichi traumi però sì questa è la versione è la versione dei like alle storie dell'ex che fai alle due di notte esatto però da 74 milioni è esattamente la stessa cosa sono usciti 74 milioni di tasca e quindi innanzitutto proprio a questo proposito devo dire chi sono io per giudicare e secondariamente non lo so qual è la situazione sentimentale di Jennifer Aniston adesso te lo dico non lo so sarà sposata non è sposata non è sposata ah vedi vedi non è sposata si è risposata con Justin Theroux dal 2015 al 2017 però quello che dicevi scusami quello che dici te è giusto perché Brad Pitt per il mondo è Brad Pitt ma per Jennifer Aniston potrebbe anche a questo punto essere Brad Pitt hai capito comunque guarda che il tempo passa come tu come tu mi insegni il tempo passa ma quindi adesso tornando sulla terra non bisogna cagare il cazzo all'ex 15 anni dopo 20 anni quanti cazzo di anni sono passati 20 anni 20 anni dopo cagare il cazzo all'ex è sano lo faresti vuoi mio giudizio morale voglio sapere lo faresti grazie Matt è che è così è che comunque ma spera di rientrare in Jennifer Aniston non lo so non lo so è che comunque un po' fa simpatia è una cosa così assurda che un po' fa simpatia un po' fa simpatia è vero un po' fa simpatia perché sai sono quelle cose per cui tu pensi ma quindi a qualunque livello di reddito a qualunque livello di accesso ai corpi altrui viviamo tutti la stessa fottuta vita e ti dirò di più e ti dirò di più secondo me all'età che ha anche Brad Pitt e all'esperienza anche carnale che ha Brad Pitt gli manca l'affetto e la compagnia cerchiamo tutti quello che abbiamo perso nell'età dell'innocenza questa è la verità a questo punto direi no non posso dire cose troppo volgari beh mi devo fermare qui comunque se eravamo al pub ti sparavamo di quelle cose di un greve brutte e comunque sì sì in fondo Brad Pitt ha cercato parafrasa Ricchi parafrasa è proprio una cosa brutta Brad Pitt ha cercato ha cercato in realtà è il fanciullino il fanciullino di Brad Pitt che cerca la fanciullina ma la fanciullina come sempre le donne in questo sono più mature perché l'uomo è comunque molto così comunque evidentemente sei trasparente perché la chat ti sta leggendo l'uomo è sempre molto guidato ovviamente dai suoi impulsi ma anche molto ingenuo e mi immagino la donna che in queste situazioni prende l'eterno ragazzino mai cresciuto come noi tutti maschietti siamo l'eterno ragazzino ti piacciono questi stereotipi? noi maschi ma tu sei ma tu sei giupizzi per caso ma parla per te l'eterno ragazzino mai cresciuto soprattutto tu sei e gli dice Vez ma è arrivato il momento di diventare adulti assumersi le responsabilità e pensare al bimbo Michele perché quando Brad Pitt a seconda il suo fanciullino interiore dimentica il fanciullino esteriore e il fanciullino esteriore e il bimbo Michele forse non sai la gag ma io una volta è uno che ti è comparso in chat una volta giocavo a un videogioco che mi suscitava delle reazioni isteriche quindi un videogioco e volgare esatto un qualunque videogioco e mi fu fatto notare che c'era un bambino che mi seguiva era il figlio di uno di uno che mi seguiva che apprezzava ma si beccava ovviamente delle bestembe e si chiamava Michele mi sembra mi sembra proprio una tua responsabilità e quindi e quindi quello quello che penso è che Brad Pitt cade nell'errore nel quale cadono molti uomini a mio avviso in questo le donne sono più mature secondo me cioè dimenticano che non sono più loro il bimbo Michele ma che il bimbo Michele l'educazione di tutti i bimbi Michele del mondo spetta a loro quindi alla fine in quella casa da solo a farsi le pippe Brad Pitt dovrà istituire una scuola per bambini da educare prima dopo durante bell'era cesarone grazie mille anche matt grazie ho capito questo voleva essere il primo segmento quality questo e direi che abbiamo abbiamo già chiarito tramite unicef esatto abbiamo già chiarito bene il tono di queste chiacchierate oddio oddio ma poi ah no aspetta abbiamo dimenticato una cosa era impossibile da collegare per forza che ti sei dimenticato perché sono partito per la tangente perché la tangente Brad Pitt esclude la tangente morte esatto perché quindi ripetiamo che Matthew Perry è morto tutto questo ci riporta per fare questo collegamento preciso dobbiamo ripetere che Matthew Perry è morto e ora il collegamento c'è perché come ti accorgi della diciamo della discrasia fra il bambino interiore e il bimbo Michele esteriore l'età gli anni che passano e quindi in fondo anche la morte è la morte che ti costringe a guardare in faccia il bimbo Michele e i suoi occhi attoniti che non pensano non è che fare con un lurido porco e quindi che cosa succede Matt è solo il primo segmento non so cosa dire che cosa succede praticamente Matthew Perry è morto io mentre questo si riprende voglio dire alla chat che prima di ogni live Ricky si raccomanda di non uscire troppo dai binari di non dire cose brutte di censurarti e lo ripete lo ripete a me in questo caso ma è un bolito per se stesso che poi prontamente come il proposito di non dire parolacce prontamente tradisce questa promessa stavi dicendo Ricky stai facendo un collegamento sublime allora Matthew Perry è morto tra l'altro è lo vecchio però stavo per aggiungere un altro morto non solo è morto Matthew Perry icona degli anni 90 ma è morto anche Luke qualche anno fa Luke Perry altra icona degli anni 90 non so chi sia Dylan di Beverly Hills ah beh sei troppo giovane sei troppo giovane insomma per dire che i Perry icone degli anni 90 non sono stati longevi è un caso è collezione di francobolli ci sono due francobolli ma forse è già scienza ma chi analisi incredibile hai fatto ma tu sei un osservatore puntuale della tua doppio Perry al salitore che cazzo hai droppato Gesù l'ho capito bellissimo 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 no c'è stato veramente il doppio Perry allora tutto questo per dire la morte di suono della morte la morte se l'avevo qui leggo la notizia senza metterla a schermo come mio costume perché non sapremmo come fare cito il messaggero perché il corriere era dietro Paywall Giulia De Pentor l'influencer dei cimiteri tra podcast e il successo sui social amo le storie scritte sulle lapidi sono poche righe in un mondo in realtà non è vero sono cinque pagine vabbè leggo solo l'inizio è bellissima no devo leggere scusa Eugenio aspetta aspetta che forse riesco a metterlo a schermo faccio un tentativo ma comunque non è quello che sto leggendo io sì sì è quello che stai leggendo tu perché ti conosco vediamo vediamo no siamo noi ho sbagliato non ti preoccupare lascia per no che fai casino no che fai casino ho fallito metti la solita la solita la solita tu leggi in un mondo tempestato dall'emergere continuo di nuovi influencer concentrati in ambiti ormai tipici come la moda il benessere la cucina il lifestyle c'è ancora qualcuno che si smarca con la propria originalità riuscendosi a ritagliare uno spazio sicuramente libero dalla concorrenza i cimiteri e tutto ciò che gli ruota intorno io leggo la chat perché voglio vedere cosa dice vendo ok a riscuotere impensabile successo in quest'area decisamente poco battuta è Giulia De Pentor conosciuta ormai come l'influencer dei cimiteri è un conflitto di interesse Giulia è autrice di un podcast è autrice di un podcast dal titolo che lascia poco spazio all'immaginazione Camposanto podcast italiano sulle città ultraterrene bella però questa definizione questo è Camposanto il podcast dedicato a chi ama i cimiteri si legge nell'introduzione io mi chiamo Giulia De Pentor e amo leggere le storie scritte sulle lapidi osservare le fotografie sbiadite dal tempo e immaginare le vite degli abitanti di queste immense città ultraterrene ultraterrene la trovo una cosa incredibile non so Eugenio se hai qualcosa da dire io come ti ho ripetuto più volte perché questo è un argomento che ti sta a cuore a quanto pare dalla frequenza di volte in cui me l'hai ripetuto negli ultimi giorni cosa ti devo dire su queste cose ma è interessantissimo non lo saprei veramente allora innanzitutto scopro che è italiano è italiano Giulia De Pentor non avevo ancora colto questa cosa ok poi detto questo ci sono altre cinque pagine di cui non sappiamo nulla ti dico perché sto leggendo adesso ha scritto un libro per Feltrinelli il nome i suoi Giulia De Pentor libri i suoi follower su Instagram in memoria si fanno chiamare i Campos Hunter ok che non è una setta bensì bensì ha scritto un sacco di libri però sui cimiteri sono gli ultimi e questo è il rapporto con la morte no ma la cosa adesso allora grazie junk soup grazie mille la cosa secondo me interessante di questo di questo aspetto è che porta ma guardate che è allucinante porta la lente di ingrandimento dei social network sulle lapidi sulla morte sui trapassati in altre parole uno vive una vita di rotture di coglioni già si sbatte due palle allucinanti sperando di scopare qualche Jennifer Aniston vive e a un certo punto muore e pensa senti ho avuto tutto Instagram ho avuto YouTube queste rotture di coglioni incredibili tutta una vita che la gente ti giudica ti guarda e tu hai sempre un po' anche se hai tre follower hai sempre un pubblico e ti sbatti per sbattere o essere sbattuta insomma fai tutte queste cose a un certo punto schiatti e c'hai quel momento creativo prima di schiattare in cui i progetti o lo faranno magari i tuoi parenti che cazzo non so pensi alla lapide e dici stiazzi la lapide la lapide penso ci pensino i parenti non so ci pensano i parenti ma magari uno è stato previdente non hai pensato alla frase sulla lapide io ho una lista di frasi sulla lapide io so che tu hai un video che posticipi in continuazione non l'ho ancora fatto non l'ho ancora fatto no io non l'ho impostato non ho pensato alle frasi sulla lapide ma è segno che uno io sono più lontano alla morte rispetto a te e questo è tutto da vedere e due e due che tu sei una persona molto paranoica no comunque sia ma ti rendi conto cioè io mi approccio ho finito di tutti gli sbattimenti in tutti i sensi a un certo punto sti cazzi mi approccio al trapasso ma l'attività social non finisce mai non si ferma cioè anche è un incessantismo post morto cioè è veramente l'incessantismo post morto cioè anche da morto mi devi cagare il cazzo con guarda cosa ha messo questo sulla lapide guarda la lapide di quest'altro guarda la frase di questo la foto di quello ma poi io voglio sapere come vengono come vengono toccate con quale con quale scherno vengono toccate tutte quelle lapide lapide o prive di fiori o i cui fiori sono appassiti ma adesso i fiori io spero che non cioè ma questo è segno ma questo è segno di non ti vuole più bene nessuno è la dimenticanza di Virgo c'è ancora appellati a fumetti è la dimenticanza di Virgo ma il punto è cioè anche post morte ma anche i nostri ultimi segni lasciati così sai la riga di una poesia una stronzana faccia da culo quello che te fa minchia sono sui social anche da morto ma datemi voglio io voglio firmare per un cimitero dove non si può filmare io Ricky ti ti ricordo che i tuoi segni non ti appartengono e quindi nemmeno quelli nemmeno gli ultimi mi hai trafitto ti ricordo mi hai ricordato come tu mi insegni mi hai ricordato che sono sempre che sono l'illuso di sempre perché in realtà che cosa direbbe Woody Allen ma chi se ne frega di cosa fanno dei miei segni post morte in ogni caso sai cosa manca manca il consenso ci vorrebbe uno farmi mettere la frasetta la foto in pose scrive a consento all'uso social della mia carazza di lapide comunque leggevo l'ultima pagina di questo articolo straordinario e l'intervistatore chiede scrive viene istintivo chiedersi dov'è che lei vorrebbe essere sepolta e la risposta è lontano da occhi indiscreti la risposta è stata voglio essere cremata ho il terrore di essere sepolta viva come in un racconto di Edgar Allan Poe che forse non sa che queste non sono le uniche due alternative possibili comunque non è un articolo scritto benissimo tra l'altro ma che cosa scegli essere sepolta viva o essere cremata da morte voglio essere cremata preferirei evitare l'annegamento ok pelati e fumetti dice bruciato vivo è meglio insomma abbiamo comunque il range degli influencer non c'è più nulla che è fuori dal lavoro degli influencer lei dice senza concorrenza ma io ti propongo sicuramente senza contraddittorio e vedi vedi il discorso del consenso si parla tanto di consenso e questo è dittatoriale non c'è il contraddittore è putiniano e abuso ma cosa volevo dire nulla ci impedisce la prossima live di farla da un campo santo o nulla se non le linee guida di Twitch che io non conosco ma è possibile è possibile o anche la legge italiana probabilmente io vorrei dice stregone quantistico io vorrei essere sparso in giro per la città senza essere un pezzettino qui sai cosa come le briciole di pollicino però il pollicino potrebbe essere solo animal lecture come i pollici di pollicino i pollici di pollici oppure giustamente petata bollente scrive crio ibernazione fino al momento della fine del capitalismo che mi sembra scongelatemi quando sono finito il capitalismo è bellissimo io quando muoio ho una sola richiesta io voglio essere vendicato vuoi essere? vendicato vendicato non cremato sepolto sepolto ma vendicato vendicato oddio sono stanchissimo ma che ore solo ma è già notte fonda avevamo altri segmenti se li avevamo ma tu hai sguattato in questo allora sta live Eugenio non so dove la metterò ci pensiamo ci pensiamo avevamo altri segmenti sì ovvio ovvio allora io so io so che tu voglio essere vendemmiato io so che tu hai parlato in live di di amicizia ah sì so che hai fatto una lunga live parlando di amicizia non ho seguito molto ma ho subito una normale una normale live mi sembrava più mi sembrava più carino sì sì la metterò su su cantina questa poi pensiamo eventualmente poi pensiamo e sull'amicizia e di cosa avete parlato dimmi qualcosa su line dell'amicizia avete parlato del dei vantaggi degli svantaggi della sincerità nell'amicizia sì cioè devi essere sincero o essere supportivo e quindi la bugia buona mi sembrava fosse che non mi ricordo già più niente però mi sembrava fosse così ok e ne volevamo parlare insieme anche in merito a quest'articolo che è uscito un resoconto del rapporto adolescenti e schermi che è uno studio dell'università della california di cui che ha citato anche shy tuo youtuber preferito e che che parla del fatto che i giovani d'oggi gli adolescenti non cercano più né nei contenuti che consumano come intrattenimento ma nemmeno nei loro tramite i social media non cercano più come primo obiettivo le relazioni intime uomo-donna uomo-uomo donna-donna che siano ma l'amicizia perché ragioni in termini binari l'amicizia fammi l'elenco di fa adesso fammi tutti fammi tutti gli accoppiamenti possibili fra tutti i possibili generi o tutte le altre combinazioni ok ma cercano rapporti di amicizia e vorrebbero vedere anche più spesso rappresentati nei film nelle serie tv questi rapporti fondamentali per i giovani mentre invece trovano sempre spazio i rapporti intimi spesso finalizzati al sesso e tra l'altro questo questo può aprirci a discorsi interessanti sia sul cambio di sensibilità sia su cosa sia meglio su cosa sia meglio per noi cercare cosa è più raro vado avanti io parlo la domanda aspetta 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 ma la domanda che mi stai facendo è questa è più facile con una persona avere un normalissimo rapporto interpersonale o scoparci per quanto uno possa essere Brad Pitt di solito con le persone mediamente con le persone non ci scopi però con qualcuna ogni tanto ci scopi però è molto più frequente non scopare con una persona sì di nuovo non so se era questa la domanda di nuovo di nuovo ti ricordo che tu parli per te e che stai guarda se mi smentisci sei ok ok a meno che tu non sia Gian Bruno un altro papabile segmento che la chat cita vedi però vedi che tutto il mondo è paese Gian Bruno Gian Bruno non conosce differenza in questo senso per lui questa domanda non si porrebbe nemmeno vedo ed ho citato anche Giorgione assieme a Gian Bruno tra l'altro c'è di un'assonanza no ma dimmi dimmi un po' sviluppa un po' questo discorso Eugenica io sono vecchio no allora tu che sei tu che sei filosofo cioè io faccio parte di quella generazione in cui tutto tutto era per per entrare adesso no anzi so cosa so cosa chiederti so cosa chiederti perché ci perché ci aiuta poi a partire alla tua età ok in cui certamente la forza è dell'ormone è dell'ansia della conquista ok e questa non è però non è una cosa adesso sembra sciocco però non è vero allora ci sta ci sta ti devi sicuramente molti sassolini dalla scarpa te li sei già tolti alla tua età cos'è più raro grazie Andrea cos'è più raro per te non un'amicizia ma una vera amicizia di qualsiasi tipo o un rapporto intimo anche con una buona intesa questa è questa è la domanda molto bella ovviamente non puoi rispondere che una cosa non escluda l'altra perché altrimenti chiudiamo il segmento non farei mai una cosa di questo genere ok ti ringrazio la vera il rapporto intimo a un certo punto è la vera amicizia cioè è come se tu mi chiedessi ma chi credi di più nelle relazioni interpersonali o nella copula uno è un dato fisico la crapula che è un altro sinonimo possibile non ha bisogno di crederci o meno un atto meccanico se vogliamo le relazioni interpersonali sono qualcosa di molto più elusivo la vita insegna a me poi ognuno insegna quel cazzo che vuole ma a me insegna questo che è molto facile essere delusi dalle relazioni interpersonali nella misura in cui si hanno in grandissima rilevanza si considerano estremamente importanti la lealtà l'onestà e l'onestà intellettuale è molto più sei esigente nelle relazioni interpersonali e forse qua potrebbe cascare l'asino dei giovani d'oggi per così dire più sei esigente nelle relazioni interpersonali più sarai sempre alla ricerca di quel rapporto platonico ideale povero Platone che spero per lui non fosse così platonico mentre invece il rapporto meccanico è onestamente il rapporto meccanico non vale nulla rispetto al rapporto umano e il rapporto umano in questo senso arricchisce il rapporto meccanico però sì è molto è molto raro un rapporto umano che incontri i nostri ideali ma perché i nostri ideali di rapporti umani sono o troppo troppo slanciati verso una purezza una una rettitudine una correttezza che non esistono probabilmente crediamo che esistano in noi ma perché non riusciamo a vederci criticamente certo oppure messi in difficoltà dalle nostre difficoltà di di relazionarci per cui tanto più in epoca parasociale socializzare davvero ci fa ci fa molto strano anche perché indipendentemente dal fatto che noi possiamo essere persone socialissime nella vita reale comunque oramai tutti passiamo più tempo a parasocializzare che a socializzare e quindi ma tu hai detto che caratteristica dei giovani d'oggi secondo te è l'accontentarsi o il contrario temo che possa essere il contrario temo che possa essere il contrario perché se tu mi dici che c'è questa questa ricerca di rapporti di rapporti platonici c'è un gatto che miagola miau io vedi vedi è la soluzione a me dispiace dirlo ma è la soluzione la soluzione sono i gatti se nella vita un tampone per la solitudine no questo ha l'ospito se nella vita ti accorgi che consumare meccanicamente alla fine è solo consumare meccanicamente e ti accorgi che le relazioni interpersonali scopri il gatto quindi alla mia domanda tu rispondi che sono peggio entrambi sono peggio dei gatti sono peggio dei gatti la cosa importante è questa ci sono bisogni primari tra cui la copula chiedono in chat se bisogna anche consumare meccanicamente poi con il gatto no per consolidare la cosa bella del gatto è che basta spupazzarlo no dimmi cosa pensi tu che invece sei sessuologo in senso questa è la prevenza che questo tu userai sei sessuologo come io utilizzo sei filosofo per paraculare una richiesta di argomentazioni non lo so c'è il il discorso giovani e sesso è un discorso complicato perché poi non so se tu sai ma ogni dato che viene fuori sembra suggerire che i giovani facciano sempre meno sesso anche se poi a livello di immaginario e a livello di disponibilità mediatica il sesso riveste ricopre un ruolo sempre più predominante all'interno forse è meno una figata può essere che sia meno una figata per i giovani d'oggi rispetto ai giovani di vent'anni fa non lo so è che un po' è banalissimo dirlo però parlavamo di togliersi i sassolini della scarpa ci sono troppe alternative al sesso live dal vivo vero e quindi e quindi questo un po' forse fa sì che qualche sassolino te lo togli già al tempo stesso sappiamo tutto di tutti e quindi anche le paure sono amplificate sicuramente un tempo ci si facevano meno pare non lo so non lo so però pandemia qual leggo della chat ma questi dati però esistevano anche prima della pandemia in realtà il fatto i problemi e poi il numero incredibile di diagnosi per problemi sessuologici in aumento tra i maschi i casi di disfunzione erettile sono i massimi storici anche tra i giovani sicuramente siamo una società dei giovani ansiosi su questo non ci sono dubbi e quindi il sesso forse è caricato anche di un'ansia diversa d'altro canto d'altro canto essendo meno proibito forse meno accattivante e qual è il nuovo proibito forse il rapporto vero questa cosa interessante non saprei quello che posso dire io per me è che i rapporti umani secondo me crescendo nella mia breve fase di crescita diventano più più appetibili ma perché ti passa un po' quell'ansia anche performativa di bruciare le prime tappe di aver fatto determinate cose quando ti passa un po' quell'ansia lì di aver dovuto fare di dover spuntare le caselline allora diventi un po' più selettivo che poi è uno dei motivi per cui in realtà fare esperienza aiuta perché fare esperienza ti libera molto e ti permette di scegliere veramente ciò che vuoi e non impreda a un'ansia di conquista leggevo di una generazione molto disillusa verso tutto è una bella generazione quindi la saggezza ha vinto in realtà siamo una generazione di saggi è molto saggio io al di là delle gag di tutte le solite gag stranzate trovo molto saggio anteporre la relazione interpersonale poi sono d'accordo con la fase che dici tu che comunque c'è un periodo della vita non so se usa ancora in cui devi veramente spuntare le caselle ma a un certo punto davvero quello che conta e quello che è più raro e più prezioso sono le relazioni interpersonali anche lì anche lì poi ci sono le caselle quando hai capito che si cade sempre nelle stesse ma che ne è sempre nel solito doubt death ma vabbè un'altra un'altra volta un'altra volta un'altra volta parliamo dell'aspetto strumentale strumentale ma mi sono visto troppi film di Woody Allen nell'ultimo periodo sono un po' troppo perfetti ok abbiamo quello abbiamo quello in mente sì quindi su questo ma quindi tu sei un disilluso anche dai rapporti umani è una domanda è una domanda sì ma certo no ma non esistono quelli ma l'amicizia vera è rimasta ma sì ma boh ma sai ma io per te cosa sono per me sei solo un oggetto sei solo un oggetto no il cosa cosa ti devo dire alla fine alla fine il problema dei rapporti umani è il paragone con il rapporto con i gatti gatti e street fighter io non riesco a capire cos'altro ci sia nella vita questo questo è questi sono i discorsi mi manca solo un gatto che mi batta street fighter cosa che sta probabilmente per accadere e in chat mi chiedono cos'è un'amicizia vera che è una bella una bellissima domanda nel senso di totalmente irrispondibile come fai a rispondere non l'amicizia l'amicizia vera è quella che si può stringere solo no non lo so non so come andrà a me l'amicizia che piace più è quella divertente cioè a me con gli amici mi piace divertirmi il divertimento già è molto esigente trovare una persona con cui ci si diverte davvero è molto selettivo già come criterio riuscirsi a divertire insieme questo è un bel criterio cioè a me piacciono molto le persone con cui mi diverto cioè se io e te e Alex andiamo tre giorni a Roma ci divertiamo secondo me l'amicizia vera è figo è quella per cui due o più persone che potrebbero in quell'istante star copulando scelgono scelgono invece di passare del tempo insieme beh l'amore ma non tra di loro no 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 te lo dico diversamente no non hai capito non hai capito ma l'ho detto male io ah scusa l'amicizia vera è quella adesso definisco l'amicizia vera l'amicizia vera tra uomini etero visto che noi parliamo per noi e non vogliamo e non vogliamo mettere le cose in bocca agli altri l'amicizia vera tra due uomini etero lo spiega anche alla chat secondo me è quella che si può stringere solo quando questi due uomini etero potrebbero volendo in quel momento stare copulando con altre ok 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 ma invece preferiscono farsi le games e scelgono invece di praticamente tu leghi l'amicizia vera l'andropausa c'è andropausa condizione dell'amicizia vera no no perché l'andropausa non è l'unica oppure essere così brutti da non avere nessuno con cui no perché a quel punto non è amicizia vera è amicizia di comodo è troppo di comodo si sta io ti dico alla fine della fiera io feci un video sul calcio di saigyo una volta qualcuno lo potrà recuperare su conosco ci pensavo oggi io sempre rifiuta e rifiuterò sempre il andare a cagare nel compost con saigyo però alla fine ha ragione saigyo vivere in società vuol dire vivere in società nonostante abbia ragione saigyo c'è lo scambio e lo scambio è sempre lì perché non è sempre necessariamente uno scambio economico è anche uno scambio qualsiasi cosa di qualsiasi cosa compaglia affetti sopportazione sopportazione sì sono d'accordo però esistono sono esistiti nella mia vita spero mi auguro nella vita di chiunque a volte con le persone con cui si scombano abbastanza da un punto di vista intellettuale esistono dei momenti in cui divertimento sincerità speculazione intellettuale ti danno quella sensazione fugace del vero accordo quasi l'anima gemella ma non intesa sessualmente ti danno proprio la sensazione di avere un momento in cui con una persona ma a me è successo in realtà parlo sempre male dei commenti su youtube ma è successo anche con alcuni commenti su youtube hai quella sensazione a volte di ci siamo capiti ecco credo che il massimo per me di una relazione interpersonale sia capito avere la reciproca sensazione di ci siamo davvero capiti ma io ti ricordo che Carmelo Bene diceva che non c'è cosa peggiore di doversi spiegare e quindi è una cosa molto bella ho l'impressione che tu mi stia citando è una cosa molto bella e quella proprio quell'idea lì capita a me è capitato con alcuni amici capita anche può capitare con la fidanzata di avere a volte quella sensazione di essere in compagnia ma non è la compagnia di famose due gags ma per un momento non ero solo nella mia mente ma stavamo ridendo in due stavamo ridendo in due oppure eravamo guarda per usare il tuo che ti piace tanto ed è bellissimo il tuo guardarsi vivere eravamo in due quasi a darci di gomito ridendo a guardarci vivere e sono sensazioni che però capisci che è un discorso che inizia già ad assomigliare al discorso del mistico la vita ci dà ogni tanto l'illusione di brillare di fare di fare i fuochi d'artificio di di essere qualche cosa di magico ed è bello essere bestie preposte a provare queste sensazioni sono molto belle leggevo grazie Michele la filosofia di amicizia di Rick Duferre legato al fatto di esserci l'uno per l'altro nella difficoltà ma io perché devo essere aggiornato su questa cosa scusate cosa ne pensi di esserci l'uno per l'altro nella difficoltà è una bella cosa meglio esserci l'uno è una bella cosa però ecco è l'ennesimo scambio iniziale va bene va bene ok Ricky non vuole sapere cosa pensare che tu fai e lo indisponete se glielo chiedete guardate come si è fatto cupo come siamo tutti meno amici adesso eravamo eravamo tenersi con mano nel momento del bisogno vabbè non dico niente e arriviamo al segmento successivo allora il segmento mi ricordo nemmeno più qual è aspetta c'era un altro segmento ah si si oddio è un segmento per modo di dire qual era c'è Fedez da Fabio Fazio eri te che ne volevi parlare è falso è falso è falso però vabbè era venuta in mente una cosa da dire ma non me la ricordo ok vabbè io parlo così poi ti viene in mente e vabbè Fedez è stato da Fabio Fazio io ho sentito la trasmissione Fedez è stato da Fabio Fazio dopo che Fazio era stato da Fedez a Muschio Selvaggio e intervistato da Fedez e Marra e quello che è successo ieri in realtà non è successo niente Fedez ha ha detto che il governo Meloni dovrebbe vergognarsi di aver tolto di aver ridotto i fondi al bonus psicologo hanno parlato di Vialli questo l'ho visto sui Corrientes e poi la cosa che è emersa a me ma è ovvio che deve emergere da un'intervista e Fazio lo fa spesso però sembra che Fazio stimi davvero Fedez sembra che ci sia comunque una certa una certa intesa tra i due Fazio ha speso belle parole per Fedez poi mi potresti scusa Eugenio se ti entro mi potresti fare l'elenco delle persone per cui Fazio non ha speso belle parole infatti è lì che ti volevo imboccare perché sapevo che tu volessi dire qualcosa del genere ma io adesso mi è venuto in mente cosa volevo dire ma non c'entra Fedez c'entra Fazio ok ah no e volevo anche dire che secondo me in confronto a Fazio ti dicevo quando Marra l'ha intervistato e insomma io non sono il fan apprezzo scusami devo interromperti apprezzo moltissimo il riferimento a Vincenzo Mollica perché è perfetto non sono un gran fan il fan numero uno di Mr. Marra ma le domande di Mr. Marra a Fazio erano abbastanza interessanti e tra i due diresti che l'intervistatore è professionista e Mr. Marra e Mr. Marra ci sta io ho letto nei commenti perché non ho visto il video ho letto i commenti pensate che sono proprio l'ultimo degli strozzi faccio esattamente quello che predico che non si debba fare ed è così che bisogna vivere ho letto nei commenti al come cazzo al cerbero no al muschio selvaggio c'era una persona che diceva citava col virgolettato quindi sarà una cosa che avrà detto Fazio che Fazio nelle interviste cerca ma me lo diceva anche cerca l'empatia cerca il momento di empatia cerca di mettere a proprio agio l'ospite che venga fuori ciò di cui l'ospite vuole davvero parlare senza fargli domande scomide ecco che tu dimmi sembra il proposito perfetto per una persona che fa qualsiasi lavoro tranne sembra il proposito perfetto per una persona che deve dare a qualcuno una piattaforma per dell'autopromozione sì e quindi cosa sono adesso vorrei sempre parlare di conflitto di interesse no perché non è un conflitto di interesse però comunque che cazzo sono quelle interviste se non pubblicità poi autopromozione può esserci un'occasione commerciale di un prodotto oppure no ma alla fine senza pubblicità è gente che si fa pubblicità e questo ottiene gli ospiti migliori perché crea talmente il cuscino l'alcova perfetta di comfort e mai ci sarà una virgola di stridio in realtà ci fu con Umberto Eco perché giustamente gli faceva anche grave comunque mai ci sarà lo stridio perché tu abbia voglia di andare lì dove non sarà come Elon Musk come disse Robert Downey Jr da quello che intervistò Elon Musk con le canne non mi ricordo Joe Rogan disse non voglio andare via di qua con le mie azioni in calo come fu per Elon Musk e tu sai che da Fabio Fazio le tue azioni usciranno stabili o in crescita e quindi hai solo che un vantaggio un comfort ti mette comodo un po' un cuscino qui un cuscino qui un po' di lingua e ti puoi accomodare e io non so che cosa dire non considero queste interviste sono così dei massaggi tra l'altro sono massaggi di che tipo si possono sciogliere i muscoli non si possono sciogliere i muscoli allora cosa fanno i massaggi tu che sei un personal trainer rilassano 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 cosa fanno di 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 molto dimostrato poco scaldano e rilassano scaldano e rilassano ecco scaldano e rilassano e hai quel pubblico che dice grazie perché è così perché vuole vedere un po' di catarsi con con il personaggio di oggetto di identificazione e un po' c'è un po' di è una una forma di un po' autoerotica ma senza arrivare veramente all'acma è un po' un preliminare un po' di petting così senza impegno dicono non a caso la Letizia viene considerata caustica se giusta apposta fatti in effetti in effetti è una coppia è una coppia vincente questo sul fatto che questa strategia sia vincente non v'è dubbio alcuno ci sono dubbi e tra l'altro Mr. Mara gli aveva chiesto invece sempre nell'intervista Musco Selvaggio pratica parafraso gli ha chiesto ma com'è che tu hai intervistato tutti sti ospiti mega super fighi così e la risposta di Fazio è stata spallucce cioè mettiamo a nostro agio è un vincente è vincente la sua ricetta non ci sono dubbi vincente per vincere il solito conto corrente senza dubbio e quei 30 minuti di empatia ma tu sei un invidioso no e questo questo Ricky era l'ultimo segmento ufficiale non ci posso credere ma non ne avevamo degli altri abbiamo altri segmenti in panchina che ti posso dire abbiamo la Melonia Giambru e basta per oggi in panchina poi abbiamo una biblioteca la Melonia Giambru dimmi qualcosa della Melonia Giambru leviamo che hai detto a Fazio aspetta 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 ti faccio pure il seguito notare che Fabio Fazio adorava Mike Buongiorno adorava Mike Buongiorno proprio l'idolatrano era un suo idolo Mike Buongiorno e Vincenzo sono letteralmente riferimenti di Fabio Fazio per me ok allora però adorava anche Umberto ma d'altra parte non può che adorare dicevamo della Melonia Giambru cosa vogliono dire sulla Melonia Giambru secondo me che quei fuori onda erano qualcosa di doloroso e la cosa che salta all'occhio diciamo è che lascia imitare me lo ricordo scusate me lo ricordo Fabio Fazio imitatore sono vecchio me lo ricordo anche io me lo ricordo Fabio Fazio imitatore beh io ho visto sicuramente delle repliche o cose del genere mi ricordo faceva una trasmissione sulla Rai ma ben prima di quelli che è il calcio che quello una delle cose che salta all'occhio vedendo i fuori onda di Giambru è che si ritrova davanti delle ragazze delle donne che sono superficialmente imbarattate ma non sembrano in realtà nemmeno troppo a disagio perché ti viene da pensare che a situazioni del genere hanno assistito centinaia di volte sai sai cosa se per usare alla fine cioè è bombshell di noi altri Giambru per usare una metafora botanica postmoderna è purtroppo quello un pero da cui quelle donne non sono cadute non sono cadute ed è amaro che sia così sono salde appese al pero sono salde appese al pero di costumi indecenti scherzi a parte orripilada sembra che voglio giustificare orripilada da latte alle ginocchia no ma che è da latte alle ginocchia da brividi veramente da brividi è come se tu avessi un buco della serratura su un come si può dire un ambiente di lavoro nel quale non vorresti mai entrare non vorresti mai fare parte ovviamente nella funzione nella condizione delle donne coinvolte ma in realtà anche del collega maschio di Giambru uno perché sarebbe una situazione tremenda perché è palese è palese comunque ma sembrano tutti troppo troppo loro troppo abituati a questa cosa ma la cosa da sottolineare che stiamo parlando comunque di uno che era il marito marito della premier compagno compagno camerata della premier c'è bisogno di dire che ci sono degli equilibri di potere ci sono dei non detti delle ovvietà cioè sono situazioni imbarazzanti sono situazioni quando sono la quotidianità fanno molto male alla salute mentale trovarsi in delle situazioni del genere hanno anche una figlia si parla di sguardo maschile quando lo sguardo maschile è quello di Giambru non è il massimo non lo so certo la cosa forse ne avevo già parlato la cosa interessante al di là di quello che si è visto sbirciando dalla serratura e questo mi fa pensare alla chiave di Tinto Brass ma non c'entra niente la cosa la cosa che mi che mi viene in mente è chi ci ha dato chi ci ha dato quello sguardo sulla base di quale trattativa perché ovviamente parliamo del principale network televisivo italiano parliamo della presidentessa o come cazzo si dice del consiglio e parliamo di una trattativa con gli eredi Berlusconi interessante interessante sapendo o avendo inteso che poi Antonio Ricci avesse ben altro come munizioni da sparare che non sparerà quindi una cosa così pubblica così che tutta l'Italia ne parli in realtà è una discussione privata fra poche persone abbastanza ghiacciante vederlo fatto così alla luce del sole vedere come funziona il potere in modo così di da scalico non so non so se fosse signorini mi sembra sia signorini che l'ho detto non lo so che il tempismo è stato giusto e che in realtà Meloni sapesse che doveva uscire qualcosa non saprei ma perché Gian Bruno scomodissimo ormai una premia che si trovava ogni due per tre a dover rispondere delle dichiarazioni imbarazzanti la Meloni sapeva tutto ma la Meloni sapeva tutto sapeva tutto di cosa Mediaset aveva in mano sapeva benissimo chi era Gian Bruno questa cosa che dobbiamo questa gag che si è fatta così quasi per salvare l'immagine della Meloni di questa che casca dal per ragazzi sti peri sti peri tengono la Meloni non sarà cascata dal per lo sa benissimo con chi sta ci ha fatto una figlia e that's i mostri di Dino Risi poteva essere un episodio dei mostri di Dino Risi mi sono idratato l'altro giorno guardavo dei video di un torneo di un noto giocatore di Street Fighter che beveva una bottiglia d'acqua a ogni cazzo di momento possibile immaginabile un torneo di un noto giocatore e la chat non faceva altro che fargli notare che era l'uomo più idratato del mondo ed era idratatissimo questa cosa mi ha fatto molto più anche io sono un uomo idratatissimo tu sei idratatissimo ma anch'io comunque anch'io ti sfido non ai tuoi livelli non ai miei livelli forse pound for pound devo dire che le nostre conversazioni sono conversazioni con una percentuale di acqua come disse cos'era Di Maio Di Maio disse che eravamo ragazzi la chat se lo ricorderà qualcuno ci ricorda secondo Di Maio qual era la percentuale d'acqua di cui siamo concorsi 90% 90% 90% se poi sei science sei composto al 90% d'acqua che non puoi in nessun modo disperdere e quindi è la roba in realtà quello che in realtà c'è una cosa da dire che sarebbe un segmento per lo spareggio ma lo devo dire adesso il discorso esatto Donato il discorso di science c'è quando lui esce si toglie il casco con questi capelli vaporosi come quelli di Eugenio e senza avere sudato eccetera quello che noi non vediamo è il suo pannolone il suo sistema con cui lui in realtà urina voi dovete immaginarvi science che è un tutt'uno c'è il serbatoio del liquido da cui loro bevono ed è un lui ininterrottamente dal primo all'ultimo giro urina vorrei che ora rivedeste o vedeste i prossimi gran premi con questa immagine in mente è un uomo che sta costantemente urinando in ogni momento è impressionante bene spero che la chat capisca cosa voglia dire cerchè di fare un talk strutturato con un interlocutore come te bene 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 siamo arrivati abbastanza vicini alle nostre chiacchierate reali non proprio beh infatti tu eri preoccupato tu eri preoccupato ma perché qua sono inca vedo la chat vedo i miei amici parasociali mi sento talmente polleggiato poi qualcuno mi farà un video contro come quella volta che ho voluto fare le gag sugli anime giapponesi che mi hanno cagato il cazzo incredibile quali 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 il bello pagliaio grazie mille abbiamo fatto una live che ci hanno fatto un sacco di gag sugli anime la sfida del migliore anime non mi ricordo ho detto un sacco di stronzate ma era quello sui personaggi femminili degli anime no 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 un'altra gag non mi ricordo minchia guai guai a farti le gags spiegare che nessuno mi faccia i video su sta live non c'ho voglia comunque leggo che forse confermano esatto maggioranza leggo che forse confermano Amadeus per Sanremo 2025 ma che cazzo dici è una notizia bellissima ah beh 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 dobbiamo pigliare i biglietti Amadeus un artista straordinario preferivo Salieri ma un paio del cazzo questa per te è l'ora questa per me sì ragazzi per me è già domani cosa volevo dire in realtà benché la chat faccia le gag non abbiamo parlato veramente di culi ma forse forse è un argomento buono per la prossima volta abbiamo siamo abbiamo nominato corny cox Jennifer Aniston cosa vogliamo dire lì si andrebbe ovviamente sulla Ratakowski ma in realtà siamo poi d'accordo non è che ci siamo beh ma perché a differenza delle nostre discipline il culo è scientifico e quindi la geometria è matematica e quindi in realtà si potrebbe dire che il culo è com'era la lingua con cui è scritto il libro della natura ok ok però è vero però sento che Galileo sarebbe fiero molto bene molto bene comunque dai direi che siamo 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 arrivati e ma tu hai una sigla di uscita ma siamo in live da tutta la vita mi sembra che siamo in live da tre giorni siamo in live da un'ora e quaranta sì lo so però no non c'è una sigla oddio sì ma non te le ho date quindi volendo c'era una sigla di Bloodborne ma già te ti incazzi perché c'è Honor London nella sigla iniziale voglio dire chat ma cosa c'entra Honor London nella sigla iniziale dei talk chat parlate con me non c'entra cosa c'entra ma questo è un professionista serio ma non è vero Dario ma questa falsità questa falsità non è vero comunque io penso una cosa adesso scusami se apro un falsissimo finale io spesso cito la genetica scherzosamente eccetera eccetera ma gli sport la comunicazione ma tutto è genetica anche la determinazione è genetica grazie Vittorio è anche quello che chiamiamo impegno personale genetica volete ma tra l'altro Eugenio voi veramente e lo dico alla chat e lo trovate su l'Uesashop raga ma volete i brividi ma leggete DNA leggete DNA di Watson che è un libro che fa venire i brividi lungo la schiena però dice Dario tra culo e tette la genetica si può dire tette su Twitch sì se si può dire culo ora credo che Twitch sia così schierato dalla parte delle tette dal culo treno K dorato sul tuo canale appena partito un treno K dorato non so che cosa sia non l'avevo mai visto non lo so ringrazio Impeducle perché è stato decisivo per il treno K dorato però il contributo insomma l'impegno personale nel sedere è superiore questo dobbiamo dire no no certo certo però comunque vai di plastica di quello che ti pare K di culo effettivamente ma è una delle ragioni ora siamo veramente lontani dalla fine è una delle ragioni per cui bisogna assolversi da tutto bisogna veramente perdonarsi e essere buoni con se stessi bisogna cambiare perché bisogna cambiarlo bisogna avere un linguaggio amorevole e gentile verso se stessi perché non responsabilizziamoci tu mi stai dicendo che in realtà il merito non esiste dipende dal gioco linguistico del momento nel gioco linguistico di tutti i giorni il merito esiste ma quando hai tirato il calcio di Saigio e sei andato a cagare nel compost e guardi l'albero l'albero guarda te e l'albero è un pelo e l'albero è un pelo esatto ed è pieno di gente della chat e pesa tu se tien rien va plus e chi si è vista e chi ha dato ha dato ha dato chi ha dato ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto ha avuto sempre le mie radici napoletane è proprio così ragazzuoli la vecchiaia ha preso il possesso di me vi ringrazio molto per aver seguito eugenio grazie a tutti ringrazio ringrazio anche te grazie a a Wesa Twitch che ci ospita nella persona di me in questo caso esatto e siamo riusciti che mi ospita da solo bravo che ci ospiti siamo riusciti a fare sta live tutto sommato e abbiamo alzato l'asticella ma ci siamo disinteressati dell'altezza dell'asticella abbiamo fatto il limbo e se siete interessati a sentirci nuovamente giovedì alle 18.30 sullo spareggio parliamo di tutt'altro di tutt'altro parliamo seriamente di sport parliamo seriamente di sport o con comparsate sporadiche di Taylor Swift sì esatto sport e Taylor Swift e basta beh ringraziamo devo chiudere allora io buonanotte ragazzi buonanotte a tutti ah per cui su Wesatwitch ci vediamo domani alle 18 con il talk siateci domani alle 18 su Wesatwitch buonanotte a tutti Grazie a tutti